salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video ci troviamo su chess.com continua il campionato delle leghe e sono passato alla lega di bronzo ora diventa sempre più difficile da qui si qualificheranno solo i primi 10 e come vedete già sono molto agguerriti mancano 6 giorni e 7 ore alla fine praticamente è iniziata oggi e hanno già un sacco di punti io sono secondo il primo ne ha già 384 però insomma come vedete è molto più agguerrita la cosa fino a qui penso di potercela ancora fare abbastanza tranquillamente da questa lega in poi non lo so fatemi sapere se anche voi state facendo questo evento state partecipando e come sta andando se siete passati già alla lega di bronzo io credo che da qui in poi ragazzi sarà veramente molto difficile la prossima lega è argento dove se ne qualificheranno forse ancora meno di 10 poi c'è quella oro e via dicendo insomma è un evento interessante ma secondo me servono delle strategie assolutamente servono delle strategie da mettere in atto uno non è che può rimanere 24 ore a giocare strategie di che tipo beh organizzare il tempo ovviamente capire più o meno quanti punti servono per passare alla prossima lega io la cosa l'ho presa abbastanza seriamente andiamo a fare qualche partita blitz almeno due o tre partite blitz per vedere come va e di conquistare qualche punto ok su chess.com in effetti sto salendo ultimamente come vedete blitz 2317 sto salendo perché ci sto giocando di più semplicemente per questo vi ricordo di mettere like e di iscrivervi al canale grazie a tutti per il supporto ovviamente prima partita 3 più 0 contro un 2214 indiano e gli indiani fanno veramente paura ok qui stiamo giocando praticamente il london system ma siamo rientrati in una caro can variante di cambio proprio uguale uguale caro can variante di cambio per fortuna che ho sviluppato l'alfiere in h5 così lui dovrebbe avere dei problemi ora lui ha giocato donna c7 giochiamo alfiere g6 cambio anche l'alfiere va bene così mi ha doppiato i piedoni diciamo che ha un po una debolezza strutturale qui possiamo cercare di eseguire il l'attacco di minoranza giocando torre b8 e poi questa c'era qualcuno che nei commenti scriveva che il discorso leghe diciamo che non è stato organizzato bene perché basta giocare tante partite ma in realtà non è proprio così ragazzi non è proprio così bisogna giocarne tante si spenderci un sacco di tempo però bisogna anche essere forti quindi questo in questo campionato vincono quelli che sono forti e che giocano tante partite vediamo e vedremo cosa succederà cerchiamo di scalare la lega di bronzo uno mi aveva detto che già dalla lega di bronzo iniziava ad essere molto difficile la situazione ed effettivamente ho questa impressione anch'io perché qui mi sa che serviranno almeno almeno 1500 punti per qualificarsi ok questo ha piazzato il cavallo qui che è un ottimo pezzo non so più cosa fare facciamo cavallo d7 cavallo b6 e cavallo c4 ci sto pensando abbastanza poco comunque che gran bella partita quella lì del joker ieri mamma mia quella era spettacolare recuperatevi il video sulla partita del joker che abbiamo incontrato un personaggio veramente fantastico già il fatto che abbia scelto come nickname the joker e poi giochi tanti sacrifici insomma la dice lunga ok bene lui qui vuole cambiare ma sì ma sì cambiamo vai cambiamo gioco questa sono abbastanza solido questo cavallo però è un gran bel pezzo è un gran bel pezzo e non so cosa fare sinceramente dai facciamo così faccio cavallo f6 poi forse rh7 ci sto pensando decisamente poco ma troppo poco ci sto pensando qua ci dovevo pensare di più ok allora qui devo per forza fare donna c7 devo difendere la casa in f7 e ora niente almeno un perpetuo non so ci sarà qualcosa qui tanto ormai questa è quasi impossibile vincerla facciamo cavallo h5 oddio se gli entro se gli entro è finito se se gli entro è la fine per lui allora questa lui cattura io questa e gli sono entrato mamma mia attenzione ragazzi boom è qui bisogna bussare perché se non se non attacco non non avrei ottenuto niente 2200 2200 su chess.com non non mi fa paura allora scacco però lui può ritornare me sto accorgendo ora vabbè gli catturiamo un po di pedoni minaccio anche donna per d4 io penso praticamente che questa sia da abbandono se secondo me si poi non lo so allora facciamo scacco e questa per attaccare il pedone ora lui dovrà manovrare il cavallo oppure difendere il pedone non so come farà a difenderlo forse donna qui donna e 2 tra l'altro meno di un minuto è diventata una bullet e vediamo ok questa stavo pensando questa io ci sta secondo me ci sta bene e qui catturo ora lui cattura io catturo però perdo perdo roba vabbè pace scacco e qui si avanza avanziamo fino alla fine no non ditemi che qui c'è il perpetuo no no ragazzi no cosa ho fatto non ci posso credere non ci posso credere vabbè via partita buttata troppa fretta buttata non ci ho ragionato molto però più 3 mi ha dato 3 trofei dai ai ai va bene così dai prossima ne faccio almeno 3 di partite ok lui d4 non ricordo neanche cosa mi aveva giocato l'avversario precedente giochiamo d5 cavallo f6 ah ecco no no uguale mi aveva giocato il london system eppure lui mi ha giocato il london system allora proviamo a insistere giocando proprio lo stesso sistema anche se ora non è proprio uguale mi sa che devo giocare a 6 perché altrimenti arrivava cavallo b5 con l'idea cavallo c7 quindi ora affianchettiamo è un sistema simile a quello di prima ma non è identico potrei anche fare alfere f5 alfere f5 mi piace si mi faccio doppiare i pedoni tra l'altro lui non li ha voluti come avete visto e ora qui preparo la spinta in e5 in qualche modo vai f6 e5 voglio cercare di avere l'iniziativa vorrei tanto avere l'iniziativa e ora la otterrò allora e5 cerchiamo di aprire il gioco questi che giocano in london system sono dei giocatori veramente molto noiosi a mio avviso ok ma qui ha fatto una roba strana veramente dai io faccio così catturo gli rimane il pezzo in presa e qui entro così ora lui può anche catturare può catturare insomma sta diventando un po' un disastro sta partita bella tesa bella tesa però questa non ce la toglie nessuno quindi pedone d4 cavallo per b7 donna b6 e il cavallo è quasi intrappolato perfetto perfetto ora questa penso sia da abbandono qui posso anche catturare di cavallo sì di donna perché c'è il cavallo in presa e ci siamo e ci siamo abbiamo già recuperato dai questa è da abbandono ora lui magari non abbandonerà mai però no no sono bravi sono bravi ha abbandonato vuole anche la rivincita giù facciamo anche la terza partita proprio con lui diamogli la rivincita questa tra l'altro è finita quasi subito ok eccola qui attacco grand prix la mia apertura che la so tutta a memoria no io vero conosco le aperture che gioco le conosco bene però non penso che l'apertura sia il mio punto forte sinceramente per come la vedo io non è il mio punto forte l'apertura anzi forse è il mio punto debole io divento più forte nelle posizioni che non conosco quindi dal medio gioco in poi mi ritengo un buon finalista non sono karsen cioè però mi ritengo un buon finalista li gioco bene i finali mi piace semplificare la posizione giocare in maniera semplice una parola si però si fa allora giochiamo e 5 cerchiamo di concentrarci qua non ci sto capendo molto purtroppo facciamo cavallo d1 cavallo f2 devo cercare di aprire arrocchi eterogenei prima cosa da fare è aprire le linee quindi devo cercare assolutamente di aprire una colonna e di entrare ad attaccare tra l'altro mi vengono le frecce torte non lo so perché ok lui qui sta chiudendo ma vorrà prepararsi a fare qualcosa allora io faccio c3 e poi questa oppure alfiere d2 e poi b4 questa è l'idea prima o poi aprirò il gioco lui se vuole prepararsela la spinta deve fare h6 per provare a fare g5 oppure può fare anche torre g8 niente di tutto ciò perfetto re b8 che è anche comunque una mossa tipica re b8 ci sta bene di solito quando si arrocca lungo il re va messo in b1 oppure in b8 come ha fatto lui ok qua sto minacciando la spinta lui mi chiude per aprire all'alfiere secondo me però ormai abbiamo praticamente aperto la colonna c e stiamo per aprire anche un'altra colonna probabilmente la colonna a quindi anche se sono molto indietro con i pezzi come vedete i miei pezzi non sono molto coordinati però ho un sacco di spazio sul lato di donna proprio un sacco di spazio ora torre b1 già inizio a minacciare qualcosa minaccio la spinta oppure minaccio anche questa questa mi piace di più su questa non so proprio cosa farà lui sta minacciando questa roba qui però questa è pericolosissima alfiere a 5 alfiere a 5 minaccio di catturare ok bene quindi ha trovato una soluzione ora facciamo cavallo f2 così difendo anch'io perché stava attaccando la casa d3 allora qui ritorniamo indietro devo cercare di mettere la donna in gioco così il problema no non ci sono problemi pensavo mi potesse entrare in qualche modo ma non può entrare perché la sua torre si trova ancora in in d8 esatto questo era il suo piano questo era è l'unico piano che lui ha in questa posizione cercare di cambiare pezzi e purtroppo mi sa che ci sta riuscendo vabbè pace dai ora voglio capire come farà a difendere quindi mi sa che già perde un pedone se gli entro di cavallo qui sono guai ma guai grossi guai grossi veramente e penso che di nuovo lui sta peggio sta peggio perché ha giocato peggio semplicemente per questo qui minacciavo questa niente l'ha vista qui mi piacerebbe tanto giocare a 5 ma non è possibile non la posso fare e visto che non la posso fare gioco questa cambio strategia cavallo b5 scacco catturo catturo torre a1 alfiere f3 e gli entro in qualche modo vai torre a1 forse deve fare re b8 io fossi in lui farei re b8 no allora alfiere f3 proseguiamo con il piano alfiere f3 lui vuole cambiare ma io non ho nessuna intenzione di cambiare i pezzi in questo momento voglio giocare anche d4 possibilmente per cercare di entrare quindi facciamo questa poi d4 per entrare in c7 ok allora d4 ora lui deve spostare il cavallo ed entro in c7 vabbè qui catturiamo intanto ed ecco qui che si entra entriamo in c7 qui faccio questa proviamo anche entrare in c6 ok ora il suo cavallo prima o poi lo dovrà muovere di lì il cavallo insomma la vedo un po' dura per lui infatti è abbandonato la vedo dura perché ho i pezzi coordinati meglio per questo quindi come vedete abbiamo giocato tre partite blitz una patta due vittorie non mi sento in formissima ma anche perché qui il discorso è che questo evento ti costringe a fare tante partite e quindi perdi anche un po' la voglia di impegnarti a giocare bene perché il tuo obiettivo diventa fare trofei fare trofei e basta vincere e fare trofei non importa come uno deve giocare velocemente perché il tempo diventa prezioso lo so che è una cosa un pochino strana un pochino brutta probabilmente però l'evento è proprio così e ci sono 50.000 dollari di monte premio probabilmente io non vincerò niente però ci stiamo provando ci stiamo provando per ora sta andando bene siamo in lega di bronzo grazie a tutti per la visione di questo video fatemi sapere voi come vi sta andando a voi ciao a tutti e alla prossima grazie a tutti